Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti! Perché secondo me quando poi si mischiano i due mondi la nuova diventa sempre più interessante e perché Radio Day, proprio da oggi, questo pezzo celebrativo, per quelli che vengono da 0 a 100 Ma è in cima alla voce Sei ripensato che il punto era prima Che immaginavo solo un punto e rapina E' quasi come fossi morto Dopo un po' sono passato ad un'amica E' più breve Ma, ma, tu figlio per gli occhi più grandi della pancia All'aria pulire a casa di una compagna Che dicevamo fosse casa nostra E vivono che essere affittati Non ricordo che ti giudano Che prima donna avresti visto E se devi bravi Non credete in un posto fisso Non vi è regalo Non cominciare a lì Quando dicevamo Ho fatto un sogno così forte Dai, che è un segno Ci parlo a cui mesi in forza Perché da sveglio Ora che sento tutta la città Passo un altro passo E' più breve come se sta E si preoccupando Perché Non c'è nessuno Se il senso non passi radio E' radio Oggi se sei con me so E se sono destrati E' una voce in milanio E' un canone 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 E' un canone